Nello scorso episodio sono stati presentati i nostri tre baroli più importanti, il barolo di Serralunga di Monforte e di Barolo, derivano dal vitigno nebbiolo. Il vitigno nebbiolo è un vitigno autoctono piemontese, quindi si è sviluppato negli anni a contatto con l'ambiente presente qui in Piemonte, adattandosi ad esso. Ad oggi rappresenta circa 4.500 ettari in Piemonte. Il nome nebbiolo ha diverse teorie di derivazione. La più accreditata sembra dipendere dal periodo in cui lo stesso è vendemmiato, quindi il nebbiolo è un vitigno con vendemmia tardiva. Di conseguenza in Piemonte, usualmente nel periodo di ottobre e novembre, si assiste alla presenza di fitte nebbie. Il nebbiolo ha un grappolo di medie dimensioni, mediamente compatto. Questo produce una leggera sensibilità del nebbiolo nei confronti dell'oidio, ma risulta essere comunque resistente, abbastanza resistente, e risulta inoltre essere mediamente sensibile alla botritis in fase di maturazione. Il vitigno nebbiolo è una pianta che ha bisogno di cure costanti, in quanto tendenzialmente è un vitigno vigoroso. Questa vigoria può essere mediata sia tramite scelta del portinnesto che comunque dalle caratteristiche intrinseche del suolo, ma tendenzialmente necessita di sfogliature, cimature frequenti, in modo da evitare che la vegetazione prenda il sopravvento e produca un aumento della quantità prodotta a discapito della qualità stessa del vino che poi si andrà a produrre. In questo momento siamo ai primi di giugno e il nebbiolo si trova nella fase di fioritura, quindi in questo periodo si definisce l'allegagione poi successiva. Le condizioni climatiche in questo momento sono molto importanti per definire poi la produzione che si avrà durante questa vendemmia 2018. Nella scorsa puntata abbiamo visto i nostri tre principali baroli, quindi barolo di Monforte, di Serralunga e di Barolo, tutti e tre derivanti da varietà nebbiolo, che è il vigneto in cui ci troviamo attualmente. Il nebbiolo è il vittigno caratterizzante e costituente del barolo, ma anche del barbaresco, che vedremo insieme nella prossima puntata.